e tu non pari niente e tu non pari niente 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 e tu non pari e tu non pari un cazzo bravo ma sono corretti eh io so er terribile che fa mega virtù da rischi er terribile c'hai qualche dubbio? io so de Roma se questa è una battuta non funziona fattelo di da uno che de battute ce le capisce manco poco hai capito? perché non si sente che so romano de Roma le bombe le bombe so 10 kg e 2 e poi che faccio? lascio? e lascio? quant'è? fanno un milione tondo tondo un milione? no un milione con la IE de Roma come non è il problema? se ci mannò a fanculo eh se ci mannò a fanculo gli va massaggiare un po' de piombe a chi gli va massaggiare un po' de piombe? tu non lo faccio assaggiare e non lo faccio Se dicevi ormai che vi sentite i padroni di Roma, a proposito, io sono di Roma, di Roma colonio mucese imperatore, a stanna fa, a scelta tua. Grazie. 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 Grazie.